Autostart in movimento per la terza corsa, una prova per i gentleman, i salchi a cavalli di quattro anni a reclamare, all'uno da Bietual, tre Dinamo Cam Bar, quattro Dallas, cinque Dina del Brenta, sei Dudovica Jet, in seconda fila, sette Divo P, otto da Granit Dipa, nove Dessi dei Greppi, dieci Diablo Dasti, undici Tutniuf Jet, favorito Diablo Dasti con Stefano Paladini, numero dieci dello schieramento, riducito a quattro primi a fila. La macchina stacca, la veloce Dina del Brenta con il suo interno Dudovica Jet, che va a presentarsi al largo e passa a condurre all'imbocco della prima piegata, in vantaggio Dudovica Jet, su Dina del Brenta che le ha concesso strada, la terza posizione per Dutniuf Jet, che è partito davvero benissimo dall'undici, figura terzo in corda, avanti a Dinamo Cam Bar, che è all'esterno, va a fare la seconda pariglia di Diablo Dasti, quarta posizione in corda per da Bietual, che precede da Granit Dipa. Se ne vanno i quattrocento metri iniziali in ventinove e sette, Dudovica Jet al comando su Dina del Brenta, di fuori Dinamo Cam Bar, pariglia per Diablo Dasti, terza pariglia per Dessi Dei Greppi, mentre c'è la rottura di Dinamo Cam Bar, che ha creato un po' di imbarazzo a centro gruppo, hanno sbagliato da Granit Dipa e Dessi Dei Greppi. Numero 8 da Granit Dipa, squalificato. E così sotto alle tribune guida Dudovica Jet, nei confronti di Dina del Brenta, avanza a largo Diablo Dasti. Poi, sempre in corda Dudnyuf Jet, sposta anche da Bietual, che va in schiena a Diablo Dasti. Il giro se ne è andato sul piede dell'1,15, con Dudovica Jet che prosegue in vantaggio all'esterno, sempre Diablo Dasti. Poi la corda Dina del Brenta, seconda pariglia per Dabbi Etual, quindi Dudnyuf Jet. Diablo Dasti che tende già a passare nei confronti di Dudovica Jet. Dabbi Etual che prova ad avanzare all'esterno, poi Dudnyuf Jet e Dina del Brenta. Dabbi Etual si pone in schiena Diablo Dasti che è in vantaggio a metà della piegata conclusiva. In seguito da Dabbi Etual, quindi Dudovica Jet e Dudnyuf Jet. La retta d'arrivo per Diablo Dasti che l'affronta in vantaggio. Dabbi Etual che prova ad avvicinarsi, ma Diablo Dasti tende ancora a ripartire nel finale. Diablo Dasti che vince la quinta consecutiva. Facile, seconda è Dabbi Etual. Al terzo posto finisce Dudnyuf Jet. 1.15.7 Raguaglio cronometrico. La vittoria di Diablo Dasti. Stefano Paladini in salchi per il training di Cosimo Palomba e Cristina Fiore che raddoppiano dopo la vittoria di Atos Dei Veltri. Stefano in garra, proprietario del quattro anni da turno di Azzurra che fa 5 su 5 dal cambio di training. Diablo Dasti. Stefano Paladini. Grazie. 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 Grazie.